Salve a tutti ragazzi, sto un po' bispigliando perchè i miei stanno dormendo e mio padre ha bussato perchè faccio troppo rumore. Bande la ciance e vi dico che è uscito da poche da poche ore fa un'ora fa e l'aggiornamento della pace di sicurezza del primo settembre se non ci credete andate a vedere allora andiamo su impostazioni aggiornamento software scarica aggiornamento manuale ed eccolo qui pc di sicurezza del primo settembre 2018 che cosa introduce non solo miglioramenti e la stabilità nel sistema ma anche due funzioni che sono il samsung galaxy s 9 s 9 plus e note 8 e note 9 allora le due funzioni che introduce sono super slow motion e emoji ar beh emoji ar serve per diciamo una specie di è un giochetto è un gioco il giochetto di personalizzazione dell'avatar ve lo faccio vedere fotocamera adesivi questo il mio avatar andiamo lì e vabbè comunque crea emoji personalizzata ed è come qui scattiamo una foto un piccolo problema e adesso sta creando l'emoji adatta noi diciamo diciamo che sta scannerizzando la foto e introduce nel nostro avatar ed eccolo qua anche se sono diverso e qui comunque si può personalizzare non solo i capelli ma anche vestiti e si può anche mettere gli occhiali al nostro avatar dato che sono biondo non tanto biondo e vabbè comunque così e lo salviamo e si può usare il nostro avatar personalizzato nei messaggi e sta creando adesivi e mochi personalizzati e questa è la la prima funzione la seconda funzione è super mochi solo e beh super solo motion andando qui scorrendo verso verso sinistra o verso destra troviamo super solo motion e ralentatore super solo motion registra il video a 960 frime al secondo era ora comunque cliccando dice di toccare il pulsante slow motion per catturare un movimento in super slow motion andando qui sta salvando il video e poi vediamo un po come come succede e poi stoppando il video mandando indietro ci sono diverse funzioni una cliccando qui l'iconcina sotto la barra tenendo premuto e dice di salvare la clip e o anche condividere questa clip se può anche tagliare il video in una parte che si vuole e poi possiamo mettere una musica personalizzata o quelle che che ci introduce e questo è il risultato questa è la mia camera ci sono molti rumori ma comunque e se lo faccio fuori sarà davvero uno spettacolo immenso vabbè non la salviamo vabbè c'è già allora vabbè introduce soltanto queste due funzioni ma cacchio finalmente era ora perché tempo fa si diceva che non che la samsung non lo faceva che non lo metteva e mojer beh perché non è tanto supportato per l'S8 S8 plus ma invece ce l'hanno fatta va bene ragazzi grazie per aver visto questo video ah no no aspettate credo che andando su messaggi poi sms vabbè lasciamo stare vabbè facciamo così andando lì penso che si possa andare da questa parte e trovare i nostri avatar allora cliccando sull'iconcina dell'emoji poi su adesivi nella barra della tastiera e ci sono tutte le cifre che ci hanno personalizzato va bene ragazzi io vi saluto qui grazie per aver visto questo video tutorial diciamo così mettete un bel like e vi invito a iscrivervi al mio canale se non lo avete fatto attivate la campanella per ricevere ulteriori notifiche del caricamento dei miei video e ci vediamo al prossimo video ragazzi non mancate per il 2 ottobre per l'unboxing di Assassin's Creed Odyssey e forse anche per Shadow of the Tomb Raider potrebbe essere la Steelbook Edition va bene ragazzi io vi saluto qui e grazie per aver visto questo video a presto ciao ciao